Buongiorno, vi svelo un segreto della psicoterapia. Dovete sapere che il desiderio che viene attivato nella vittima del narcisista diventa un canale espressivo del suo mondo inconscio, del mondo inconscio della vittima. Ma se questo desiderio non viene scoperto e resta inconscio, cioè inconsapevole, allora può diventare un acerrimo nemico della persona. Perché resta un fantasma che la perseguita di giorno e di notte. E allora, per ritrovare se stessa, la vittima dovrà prima perdersi tra le pieghe della sua anima, per poi sviluppare quello che si chiama un sano narcisismo, e successivamente arrivando a conquistare se stessa. Ma questa immensa opera necessita della presenza di un altro, che in questo caso è un narcisista. Il narcisista diventa quindi il polo di una relazione che può dare alla vittima l'opportunità di capire cosa potrebbe essere, cosa potrebbe diventare. Perciò questa è un'occasione che va colta, va colta con spirito critico naturalmente, con una mentalità squisitamente psicologica, senza la quale l'opportunità diventa una prigionia del cuore, cosa che purtroppo accade a tante vittime. Vedete, noi non possiamo essere pienamente noi stessi, e quindi vitali, se non siamo in contatto con la parte profonda di noi stessi, con la nostra ombra. E per accogliere una verità nuova, l'io deve assumere l'atteggiamento di chi sa di non sapere. Quindi deve lateralizzarsi per fare spazio al nuovo sapere, sospendendo le sue certezze, per dimenticare ciò che crede di sapere. Questa, in definitiva, è proprio l'opportunità che il coinvolgimento affettivo offre alla vittima. Vale a dire, l'opportunità di entrare in se stessa con occhi nuovi, con uno sguardo largo. Dunque, quando la vittima utilizza il suo carnefice, lo utilizza come un catalizzatore della sua sicurezza, deve anche distruggere qualcosa in se stessa, appunto per fare spazio al nuovo. In altre parole, per essere più chiari, affinché ci possa essere una individuazione, l'io deve sacrificare delle parti di sé, patendo, patendo una sorta di morte momentanea, una morte di quelle parti illusorie di se stessi. Ecco perché affinché una rinascita psicologica possa accadere, occorre patire. Il patire sprigiona qualcosa di potente. Potremmo dire che la potenza del patire è un principio di trasformazione, di crescita, di mutamento. E si sviluppa la personalità. La personalità cos'è? È un'architettura relativamente stabile di tendenze comportamentali, di stili cognitivi. Nella personalità ci sono gli atteggiamenti mentali, le preferenze che permettono di riconoscere la persona distinguendole dalle altre. E i narcisisti si distinguono perché sono caratterizzati dal bisogno di essere ammirati. Alcuni poi possono ritenere di essere speciali perché tenderanno ad esprimere aspettative di soddisfacimento di questa idea di sé che è un'idea onnipotente. Ma il problema non è tanto il senso grandioso del sé e della propria importanza. Il problema non sono neanche le fantasie di successo illimitato o di potere o di bellezza e neanche il credere di essere speciali perché il vero problema del narcisista è la carenza di empatia. Infatti è proprio la mancanza di empatia che conduce ad una modalità affettiva di tipo predatorio da cui poi derivano rapporti sbilanciati nel quale il narcisista desidera ricevere di più di quello che dà e vuole che gli altri siano affettivamente coinvolti di più di quanto lo sia lui stesso, egli stesso. e questo fa del narcisista un uomo tragico tragico perché è guidato da ideali impossibili e quando la persona si rende conto di non saper vivere all'altezza di questo modello irrealizzabile allora che succede? insorge l'odio arriva l'odio ecco perché il narcisista rappresenta il perdente per antonomasia come si cura il narcisismo? come si cura questo disturbo della personalità? la psicanalisi parla di disillusione graduale proprio come prassi terapeutica che sposta l'ambizione narcisistica la sposta su alcuni scopi più realistici trasformando un mito distruttivo in un mito costruttivo il mito distruttivo cos'è? è un mito incarnato da una specifica maschera e da un'ombra l'ombra vediamo i miti legati alla personalità narcisistica sono il mito di chi vive la vita in funzione dell'appropriazione l'appropriazione nasconde l'egoismo è mio però questo è un egoismo che uccide pensiamo a Icaro Icaro rappresenta l'ondipotenza la quale a sua volta nasconde il rifiuto del limite Icaro non accetta il limite possiamo pensare anche a Prometeo come l'emblema del narcisista Prometeo è il mito della volontà di potenza che nasconde l'orgoglio l'orgoglio Prometeo è orgoglioso e poi c'è anche Lucifero che è colui che disobbedisce Lucifero è colui che tradisce nascondendo la propria avidità nascondendo l'invidia ma il narcisista può essere letto anche attraverso il mito di colui che vuole essere sempre il migliore il primo il numero uno e questo desiderio nasconde chiaramente il rifiuto del fallimento il migliore non accetta il fallimento e allora in questo contesto la terapia che deve fare? deve recuperare che cosa? qualità come il perdono la comprensione deve recuperare l'accettazione e l'umiltà l'aiuto della terapia consiste nel far comprendere al narcisista che la sofferenza che si incontra nella vita non è una sterile sconfitta ma è un'opportunità di trasformazione di crescita di conoscenza il lavoro con il paziente narcisista richiede non solo una relazione terapeutica profonda ed empatica ma anche una modalità attiva da parte del terapeuta per favorire i processi di interiorizzazione e identificazione con una figura genitoriale positiva che consenta la ricostruzione del superio per favorire e questo è importante per favorire un nuovo modello da introiettare che favorirà lo sviluppo di un superio con richieste morali giuste giuste e una responsabile considerazione per il male inferto a se stessi e agli altri ma attenzione uno psicoterapeuta efficiente non sarà mai svalutativo però non sarà neanche iperindulgente sarà piuttosto lucido e compassionevole mi raccomando va bene io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche o via mail per cui se volete richiedermi una consulenza dovete scrivere un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473 poi per ulteriori approfondimenti vi invito ad una playlist che troverete nel mio canale youtube contenente tutta una serie di video che riguardano proprio il narcisismo ci sono svariate playlist date un'occhiata iscrivetevi al canale e buon divertimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti